ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale cantare in libertà eccoci nello spazio dedicato ai bambini finalmente siamo qui siamo stati un po in vacanza l'estate ora è finita e siamo di nuovo qui ritornati! mandiamo la sigla e poi ci vediamo qui in studio bene ciao sergio sergini come stai? c'è anche samanta che carina! ciao samanta ma dei bacini sei stata bene quest'estate? hai fatto tanti tuffi? oh brava! si l'ho aiutata io ci siamo divertiti un sacco! immagino che abbiate poi preparato anche una canzone eh la canzone eh? ah lei lei regalata tu come? ma chi chi ha preparato questa canzoncina per oggi? tu! ma io non posso dovete cantare voi allora Sergio ascoltami tu sei il cantante di tutti i bambini e non hai preparato una canzone perché sei stato solo amare e divertirti? si chi ha iniziato la scuola già Stefania di tutti i tuoi amichetti? eh allora di tutti i miei amichetti Dino ha iniziato già la scuola quindi avrà una canzone? può darsi glielo chiediamo? si chiediamo Dino facciamo scomparire proprio questi due che non li voglio vedere più ok e facciamo può comparire Dino proviamo? proviamo! ciao! oh Dino! ciao ciao a tutti! ciao! come hai fatto? ciao Dino! ciao tutto bene Mario? tutto bene il mio ceretto! attenzione che tu sputi il fuoco si sto imparando a scuola bravo bravo però non qua lo fai all'aria aperta dove non c'è nessuno ok ok va bene allora Dino noi siamo stati prima con Sergio e con Samantha però non avevano preparato una canzone e questo è un canale dedicato ai bambini che imparano le canzoni davvero non ce l'avevano preparato? è certo no ah ah aggiusto io le cose l'ho preparato io ok che canzone hai preparato? allora una bella canzoncina sull'autunno e si chiama la danza delle foglioline la danza delle foglioline è che bello è una canzone autunnale adatta per questo per questo periodo va bene allora ce la fai ascoltare? sì grazie Dino siete pronti bambini la danza delle foglioline va bene questa è la danza delle foglioline come aquiloni volano nel cielo di qua e di là di su e di giù sfinte dal vento volano lassù ora sono stanche quelle foglioline come aquiloni scendono dal cielo di qua e di là di su e di giù e un'altra danza non ci sarà più evviva l'autunno! che bravo Dino! ti piace? benissimo! bellissima questa canzoncina bellissima questa canzoncina allora bambini imparate per bene aspetta! e aspetto che c'è Dino volevo dire una cosa volevo salutare un mio amico un bambino senti ma scusami Stefano un tuo amico bambino? tu che conosci meglio Dino ma di dov'è di Bari Luna una cosa? eh sì non lo sapevo che era di Bari va bene allora dici questa cosa non ho capito allora devo salutare un bambino amico mio un bambino amico beh se devi salutare un bambino allora va bene vai saluta volevo salutare Enrico ciao amico mio ci vediamo presto un bacione grande ciao Enrico ciao anche da tutti noi bene bambini allora impariamo tutti questa canzoncina delle foglioline e poi ci vediamo domenica prossima va bene? sì chi c'è? si è svegliato il leone si è svegliato Roger Roger ciao bello Roger ti abbiamo fatto svegliare vieni qui Roger vieni vieni che succede? eh eh ti sei svegliato troppo tardi Dino ci ha fatto sentire la sua canzoncina oggi siamo su cantare in libertà oh eh giusto è ricominciato? eh sì è ricominciato già da oggi allora ciao a tutti buona domenica ciao posso cantare? eh abbiamo già già finito ha cantato Dino sì ho cantato io la danza delle foglioline la danza delle foglioline oh oh va bene ok dai allora la prossima magari la prossima volta canti tu una canzone d'accordo d'accordo va bene buona domenica a tutti ciao ragazzi ciao un batrone ciao ciao Grazie a tutti.